E voglio dire in chiusura ancora una volta che con questo accordo l'Albania si conferma non solo una nazione amica dell'Italia, noi siamo il primo partner commerciale, il nostro interscambio vale il 20% del PIL albanese e tra le nostre comunità ci sono intensi rapporti culturali, sociali, come dimostra anche il fatto che il primo ministro parli italiano quasi meglio di me, vorrei dire, ma anche una nazione amica dell'Italia e dell'Unione Europea.